giugno ragazzi un boccioletto questo piccolo lo copriamo a più tardi ragazzi le bombe di giugno tamburo stupendo una bomboniera che tamburo tamburo di giugno 2021 che qualità bianchezza 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 ragazzi incredibile guardate che fungaia mamma mia non è finita qui c'è questo e poi poi andiamo a vedere questo ce n'è un altro vicino che spettacolo questo ragazzi mamma mia mamma mia ma che cos'è ragazzi funghi spettacolari madre vieni qua dove fuggi bello 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 Grazie a tutti. 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 No, questo lo copriamo. Ecco qua. Ciao boccioletto, alla prossima. Suoniamo un po' di tamburi, dai. Non male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' incredibile. Ma ce l'ho sterrato. Guarda un po' dove dovevano nascere. Ragazzi, sulla strada, ma che cos'è? Mamma, e come è duro, 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 duro. Proviamo solo andare a prendere. Devo lavorare un po'. Devo lavorare un po'. Castagne. Guarda un po' di castagne. magiche. E anche questa giornata è terminata. ragazzi, vi faccio vedere il risultato. Ragazzi, vi faccio vedere il risultato. tamburi. Tamburi. Un saluto a tutti. giugno magico 2021. giugno magico 2021. Giugno magico 2021. Giugno magico 2021. Grazie a tutti. Grazie.